Benvenuti a Ristoranti d'Ariente, oggi vi faremo vedere come prepariamo la nostra carbonara di scelta. I nostri ingredienti, pancetta, uova, parmigiano e bulro. Ora Vincenzo vi farà vedere il cocinimento della nostra carbonara. Vincenzo, inseriamo il nostro burro, aggiungiamo della nostra pancetta. Facciamo soffriggere. Per un minuto lasciamo soffriggere la nostra carbonara di scelta. Nel frattempo prepariamo il nostro impasto con l'uovo, metteremo del parmigiano e aggiungeremo della panna per amalgamare il frutto. A questo punto prendiamo i nostri spaghetti, sgoccioliamo bene, aggiungiamo la nostra carbonara che avevamo precedenza. Aggiungiamo il nostro preparato. Dopo circa 2 minuti la nostra carbonara di scelta è pronta. Vincenzo, inseriamo il nostro preparato. Vincenzo, inseriamo il nostro porto di scelta. Vincenzo, inseriamo il nostro porto di scelta. Due bacche di pepe nero, una spolverata di pepe fresco, il nostro piatto è pronto. Buon appetito!